Sì, siamo qui. Volevo fare questo video a prescindere dal risultato perché si giocava la partita più importante dell'anno. È finita da 5 minuti e ho deciso di fare un video di questo tipo, proviamo a vedere se riusciamo a migliorare anche un po' la luce, ma sì, pochissima roba. Lo faccio di getto, ancora a caldo, perché le emozioni sono ancora qui, il cuore mi pulsava, ogni tanto provavo a sentirmi i battiti cardiaci mettendo due dita qua per sentire un attimo il mio cuore quanto sangue stesse pompando. È stata una partita di sofferenza dall'inizio alla fine, ovviamente complimenti al Napoli perché la partita non poteva finire se non così, nel senso che probabilmente anche 1-0-0 sarebbe stato eccessivo. Premessa, mi rode tantissimo, sono veramente arrabbiato, rotto e sto veramente rosicando tantissimo. Perché questa era la partita in cui non dico che dovevi chiudere il campionato, perché vincere contro questo Napoli non è mai facile. Certo, in casa tua, in una partita che può valere veramente tutta la stagione, o perlomeno quello che ti rimane da giocare in stagione, perché in Champions già al novantesimo, Corral Madrid sai benissimo com'è finita. Quest'anno sempre al novantesimo, anzi questa sera, non quest'anno, sempre al novantesimo, prende il gol di Koulibaly, che mette pari, il gol di Gwyndel è andato al San Paolo e quindi tutto da rifare. E quindi Juve e Napoli sono pari a livello di gol segnati in casa e fuori casa. In caso d'arrivo a pari punti direi che si guarderà un attimo roba del tipo gol fatti, gol subiti, immagino differenza reti e poi gol fatti e poi gol subiti. E la Juve in questo dovrebbe essere avanti, quindi adesso non ne sono ferratissimo ma mi pare proprio di sì. Quindi se magari mi sbaglio scrivetemi la correzione qui sotto nei commenti, però 1-0 l'andata, 1-0 al ritorno, ovviamente a campi invertiti perché sia la Juve che il Napoli hanno vinto nel campo avversario, in casa degli avversari. E questa sera non hai mai giocato, questa sera non sei mai sceso in campo. Non so quale fosse il problema, non ho neanche idea perché Dybala sia venuto giù alla fine del primo tempo, brutto primo tempo di Dybala, ma come brutto primo tempo di tutta la Juve faccio fatica a salvare qualcuno questa sera. Forse paradossalmente è uno di quelli che aveva giocato meglio, vabbè a parte Pjanic che mi è piaciuto Buffon, ha fatto qualche parata interessante e importante. Uno dei migliori era stato Benatia fino a questo momento. e Benatia è stato proprio quello che al novantesimo, ancora una volta come a Madrid, fa il fallo da regore su Lucas Vázquez, questa sera perde Koulibaly nello stacco, Koulibaly tira praticamente una fuccilata di testa e niente, il gol dell'1-0 al novantesimo che l'abbiamo visto tutti, l'avete visto tutti. Questo più che un video in cui provo a fare un'analisi è prettamente un video da tifoso e è un pezzo che non faccio video da tifoso, ma ogni tanto mi piace farli. In questo momento, ad oggi, inizia esattamente adesso un mini campionato di quattro partite in cui la Juve è avanti di un punto. Paradossalmente, visto il campionato, visto il calendario, lo dico senza essere falso in alcun modo, senza essere ipocrita, ma vedo il Napoli avvantaggiato in questo momento per la conquista finale del Tricolore perché la Juve ha due trasferte importantissime. La prossima, la prossima, andiamo a San Siro contro l'Inter e sicuramente l'Inter non vorrà fare un regalo alla Juventus, non vorrà farle allungare in classifica o comunque guadagnare tre punti importantissimi in chiave scudetto. L'Inter vorrà andare in Champions, la Roma non vorrà fare lo stesso regalo alla Juve e andiamo a giocare sempre a Roma ed è difficile. Poi ce l'è la Sferona e poi c'è un'altra squadra che in questo momento mi sfugge. Non mi ricordo la quarta partita, scusate, sono un attimino sconvolto perché mi aspettavo tanto di più dalla Juve, anche solo a livello di atteggiamento. Faccio fatica a ricordare tiri in porta, Reina mi è sembrato non impegnato per tutto il tempo. Non lo so, non lo so, magari qualcosa in più c'è perché se in queste partite sono le più importanti dell'anno come con Real, come con Napoli ti succede qualcosa sempre così al novantesimo e con Real si l'hai stragiocata, forse avresti anche meritato il passaggio del turno. Questa sera lo 0-0 era un furto. Questa sera il Napoli doveva uscire a Torino con tre punti per quello che ha fatto vedere, per quello che ha dimostrato. Poi lasciate stare che il gol arrivi al novantesimo da un calcio d'angolo nato tra l'altro da un tiro d'insigne, spostato tantissimo, defilato sulla sinistra, un tiro cross che Buffon spinge in calcio d'angolo nato da una palla che a tre quarti campo non sei riuscito ad andare a prendere perché eri troppo stanco, il centrocampista non è uscito su Giorginio mi pare che ha aperto a memoria su Insigne, Insigne da lì ha tirato, tiro cross, Buffon va in calcio d'angolo e dal calcio d'angolo sbagli la marcatura, Benatia perde Coulibaly e rischia di giocarti lo scudetto. E rischia di giocarti lo scudetto perché se finisce 0-0 e il Napoli rimane a meno 4, eh, a meno 4 è già più difficile che il Napoli riesca a rimontare 4 punti in 4 partite tra Juve nonostante queste due trasferte importantissime, interessantissime. Il fatto sta che non c'è più modo di sbagliare, non puoi più pareggiare a Ferrara, non puoi più pareggiare a Crotone sono punti che hai perso per strada quest'anno e che solitamente non perdevi magari non li perdevi perché in Champions facevi un percorso un po' più lungo e quindi qualche punto lo potevi perdere lì. Adesso è qualcosa che dia fastidio, un po' di aria pesante e si respira. Mi auguro ovviamente che sia un mio ragionamento, un mio pensiero che questo non sia vero però sicuramente due domande te le fai perché nelle due partite fino ad adesso più importanti dell'anno, campionato e Champions League non si è riuscito a rimanere all'altezza delle aspettative e quando succede così io sono dell'idea che il campionato debba sempre vincere il migliore non so tra Juve e Napoli chi sia migliore effettivamente perché le due partite di andata e ritorno non ci hanno dato una chiave di lettura così grande, così importante sicuramente questa sera tanto Napoli e zero Juventus sarà da vedere, ripeto in questo momento per assurdo vedo il Napoli favorito nonostante il punto in più della Juventus nonostante come ho detto prima forse la Juve addirittura in caso di arrivare ai punti dovrebbe vincere ad oggi per differenza reti o comunque per maggior numero di gol segnati ripeto, scrivetemi, aiutatemi a capirne più nei commenti ma sono un po' demoralizzato demoralizzato forse è la parola giusta avevo voglia di fare due chiacchiere così a cuor leggero, a viso aperto tanto per complimentarmi con il Napoli e con i loro tifosi perché veramente stasera non c'è niente, non ci sono scusanti non hai giocato ed è giusto uscire sconfitti è giusto perdere questa partita speriamo di fare 12 punti nelle prossime 4 vorrebbe dire Scudetto se cadi una volta, se fai un mezzo passo falso diventa complicata diventa molto, molto, molto complicata e rischi davvero di interrompere un ciclo di risultati ottimi quasi sempre perfetti che avevo iniziato Conte e che spero possa concludere Allegri io adoro Allegri spero che possa rimanere anche il prossimo anno sulla panchina della Juve come ho già detto in qualche articolo del blog che tra l'altro vi invito a passare questa descrizione per chi non ha ancora letto il mio blog ogni tanto faccio qualche articolo a tema calcistico come ho già detto secondo me queste sono le ultime partite della gestina Allegri spero di sbagliarmi vedremo un po' come andrà a finire quindi mini campionato da 4 partite Juve parte avanti un punto ma due scadere difficili in trasferta fatemi sapere secondo voi chi vincerà lo scudetto quest'anno se il bel gioco del Napoli o se la perseveranza, la lungimiranza della Juventus se il genio di Sarri o l'intuizione di Allegri fatemelo sapere perché la sfida è ancora apertissima 4 dalla fine come mai era stato il campionato fino ad ora quindi sicuramente c'è un tratto positivo in questo ma il mio cuore probabilmente non reggerà ciao, vado a letto perché è meglio è tardi e questa sera anche se non parlo di calcio fa lo stesso